Innanzitutto tengo a precisare che nell'ambito del Festival della Rivoluzione organizzato dalla Regione con la compartecipazione del Comune di Pescara abbiamo pensato sostanzialmente nella giornata di domani che è quella che organizza direttamente il Comune di affiancare accanto al macroevento cioè al concerto di Enrico Ruggeri una serie di microeventi itineranti nel centro cittadino questo per attirare sempre più persone in un festival che ha avuto numeri da capogiro e sempre come iniziativa che l'assessorato al commercio ha preso in concomitanza con questa iniziativa è quello di dare la possibilità ai commercianti di restare aperti fino alle ore 24 questo sarà un ottimo modo per godersi non solo degli spettacoli al centro della città ma anche per passeggiare e fare shopping al centro commerciale naturale puntiamo tantissimo se re dire nello sviluppo del commercio non solo nel centro cittadino se re dire ma puntiamo a uno sviluppo del commercio in tutta la città voglio ricordare che il commercio insieme ad altre attività rappresenta il fulcro delle attività imprenditoriali che si svolgono sul territorio pescarese questo assessorato farà di tutto perché possa essere di aiuto ai commercianti per sviluppare al massimo le strategie per portare sempre più persone all'interno della nostra città colgo l'occasione per dire che già precedentemente ho lanciato e spero che l'anno prossimo si possa iniziare a ragionare di questo che per esempio nei mesi di luglio-agosto iniziare ad ipotizzare almeno nei fini settimani l'apertura fino alle 24 cosa che accade già in città limitrofe che a mio giudizio sostanzialmente è un'ottima iniziativa proprio per garantire sempre più persone per far godere la città a coloro ai turisti e non solo anche ai residenti che vivono la città